Molti gli studenti presenti oggi per Rosso in Piazza letture teatrali, il progetto culturale e formativo che ha fatto vivere un'esperienza immersiva nei luoghi della città di Caltanissetta. Gli studenti e anche i docenti hanno indossato delle cuffie audio per ascoltare i brani delle novelle di Pier Maria Rosso di San Secondo, iniziativa promossa dalla Lanta Ligieri di Caltanissetta presieduta da Marisa Sedita, di intesa con l'assessorato alla cultura di Caltanissetta e con il coinvolgimento del regista Aldo Rappè. Proprio Rappè ha incontrato gli studenti nelle scuole medie e superiori della città nella sede del parco letterario per pianificare e realizzare le attività nelle settimane precedenti. Abbiamo voluto quest'anno portare Rosso in Piazza e per questo abbiamo affidato tutto il lavoro al regista e attore Aldo Rappè, che ha ripreso i testi delle novelle, li ha rivissuti insieme agli alunni, drammatizzati e portati prima in seno alla biblioteca Scarabelli, poi qui in piazza. Per noi è motivo di soddisfazione perché vogliamo finalmente che tutti quanti si rendano conto dell'importanza della novellistica e della drammaturgia di Rosso. Un itinerario che come prima tappa ha avuto la biblioteca Scarabelli, poi la casa natale dello scrittore in via Lincoln e infine in piazza Garibaldi, un tempo sede del palco della musica che Rosso ricorda nella novella Banda Municipale del 1954 e ancora Villa Medeo. Secondo i critici fu proprio lì che lo scrittore ambientò un mazzo di dalie. Abbiamo scelto di tentare di far ascoltare i brani, le novelle sono belle perché ci aprono immagini, ci aprono delle sensazioni, la volontà anche di fare questo lavoro in cuffia con il microfono un po' il boom cinematografico era proprio quello di non lavorare sulla spettacolarizzazione dell'evento ma lavorare sui suoni, sulle immagini che Rosso ci restituiva. Ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti, non lo sappiamo, ho visto ragazzi molto interessati, ragazzi un po' distratti ma va bene così. Io dico che qualcuno a casa si è sempre portata. Infine la Dante Lighieri pubblicherà il bando di concorso per il premio di cultura dedicato a Rosso di San Secondo rivolto agli studenti.